Una pattuglia dei carabinieri della stazione di Donna Lucata impegnati nei consueti servizi di controllo del territorio intorno alle 3 di sabato notte in via Archimede ha intercettato un camion carico di prodotti per l'agricoltura rubati poco prima in un'azienda di Condrada Passo Salina a San Pieri. L'autista del camion che aveva percorso appena 6 km dal luogo del furto alla vista dei militari dell'arma è riuscita ad abbandonare il carico e fuggire via tra le campagne circostanti. Si pensa che ad agire siano stati più persone visto il grosso quantitativo di prodotti portato via. Il mezzo su cui è stata caricata la merce è stato preso all'interno della stessa ditta presa di mira. Tutto il materiale del valore di oltre 80.000 euro è stato consegnato ai proprietari, ingorso le indagini per individuare gli autori del furto.